E' una campagna elettorale che vede risuonare due parole. Una è la credibilità in questa campagna elettorale e credo che il Partito Democratico con la scelta di candidare persone del territorio l'abbia fatta. Secondo, chiedo alle persone quel senso di responsabilità. Votare Partito Democratico significa continuare veramente un percorso di giustizia, legalità e soprattutto una politica di pace. Non possiamo in questo momento storico lasciare alle destre la gestione di ciò che sta succedendo nel mondo. La campagna elettorale è stata molto strana, connotata da rabbia, indignazione, delusione e noi dobbiamo recuperare questo. La credibilità della politica significa riavvicinare la politica alle persone, ai loro problemi, alla carne viva. E noi siamo qui soprattutto per questo, per metterci tutto quello che abbiamo, energie, tempo, disponibilità, impegno. Chiaramente i cittadini sceglieranno. Noi confidiamo che scelgano bene perché noi non abbiamo niente da temere, le nostre facce sono quelle che sono, sono a disposizione delle persone e noi crediamo che il voto libero, responsabile, consapevole ci possa soltanto favorire. In questi incontri che stiamo facendo appunto si vede l'attenzione dell'elettore, l'attenzione verso le persone e il Partito Democratico in un momento come questo ha messo in campo le persone del territorio. Quindi è una grande opportunità per l'elettore di scegliere ad occhi chiusi, di non scegliere persone che vengono calate dall'alto, di persone che non sono nel nostro territorio e che non vivono vicino alle esigenze della popolazione e della propria comunità. Quindi credo che questo sia il momento più giusto per votare per la propria comunità, per il proprio rappresentante. Di vita quotidiana